Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario oggi è dedicata alla vicenda del polo agrofotovoltaico Ciliegino, ieri seduta monotematica del Consiglio Comunale, una seduta l'ennesima infruttuosa. Non era presente il presidente della cooperativa agroverde, vediamo. Ancora un nulla di fatto sulla vicenda del maxiprogetto fotovoltaico Ciliegino, ancora una seduta, quella del Consiglio Comunale di ieri sera, che non ha sortito gli effetti sperati. Il presidente della cooperativa agroverde, Stefano Italiano, non si è presentato ai lavori monotematici della Sise Civica e il sindaco Angelo Fasulo è stato durissimo. L'assenza del presidente della cooperativa e dei rappresentanti del gruppo, ha detto Fasulo, è veramente molto grave. Abbiamo tutto il diritto di sapere a che punto sono le eventuali trattative. Il termine posto dopo gli ultimi incontri, quello del 5 dicembre, è abbonatamente scaduto. In questo modo il sindaco ha stigmatizzato l'assenza in aula dello stesso italiano, che, come ha riferito il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Fava, era stato ufficialmente invitato a partecipare. Se non c'è il presidente italiano, cosa siamo venuti a fare in aula? Ha chiesto il consigliere democratico Rocco Giudice. Chi dobbiamo prendere in giro? La politica ha molta responsabilità in tutta questa vicenda. Assenti ieri capigruppo dello stesso PD e del partito dei siciliani Giacomo Ulizzi e Giuseppe Collura. Oramai, ha spiegato Enrico Bella, non si parla più del progetto originario, quello del fotovoltaico, ma si fa riferimento addirittura al termodinamico. Ma chi sono, ha chiesto questi nuovi investitori, che ruolo ha l'ex assessore Rinelli in tutta questa vicenda? Chiarezza, ha chiesto anche l'altro democratico, Nuccio Caffà. Questa vicenda è stata gestita in maniera del tutto superficiale, ha detto. Un qualsiasi cittadino che intenda costruire deve avere tutte le autorizzazioni del caso. Per Agroverde, invece, si è chiuso un occhio. Ma dove erano gli assessori della Giunta? Non spettava loro controllare? Nonostante tutto, però il sindaco le ha promossi e gli ha affidato nuovi settori. Se per una parte dei democratici la responsabilità è soprattutto amministrativa, per Guido Siracusa dell'Udc le colpe sono del gruppo imprenditoriale che ha curato il progetto. Se qualcuno ha preso in giro la città, ha detto, non è certo l'amministrazione. Il nostro compito, lo massimo, può riguardare la valutazione sulla pubblica utilità dell'opera, ma non possiamo entrare nei rapporti tra il committente, il general contractor e gli eventuali finanziatori. A questo punto, entro dieci giorni, gli uffici comunali devono darci comunicazioni sulla sussistenza delle condizioni che giustifichino ancora la pubblica utilità del progetto. In caso contrario, si dovrà procedere di conseguenza. Del tutto contrario alla revoca della pubblica utilità del progetto Agroverde, si è detto Terenziano Di Stefano, di articolo 4. Revocando la pubblica utilità, ha precisato, daremmo solo l'ennesimo alibi al presidente di Agroverde e creeremo un danno economico all'ente. Dure le accuse contro i vertici di Agroverde ed in direzione del primo cittadino che intanto aveva lasciato l'aula consigliare. Fortissime perplessità sono state mosse anche da Luigi Farruggia, del nuovo centrodestra, da Gioacchino Pellitteri, Maria Pingo, Santino Giocolano e Tonino Ventura. E gli ex proprietari terrieri, presenti ieri in aula, hanno duramente contestato. Agroverde hanno detto non ci ha mai pagati. Adesso parliamo della giornata della memoria. Oggi a Gela, numerose le iniziative che hanno interessato le scuole. Sentiamo. Dottore Conti, oggi lei incontra i bambini della scuola primaria per parlare di tutela dell'infanzia, dei diritti dell'infanzia. Nella giornata della memoria è assolutamente pertinente, ma poi andrà oltre, parliamo anche d'Europa. Sì, ormai non possiamo più ragionare in termini nazionali o esclusivamente forse continentali, ma bisogna necessariamente parlare in termini di globalizzazione. Il fatto che si parli ai bambini è una cosa per me molto sempre molto emozionante. I bambini sono i nostri gioielli, le nostre gemme più preziose, che devono essere salvaguardate ad ogni posto ed è compito delle autorità nazionali e delle autorità sovranazionali quello di garantire i loro diritti e di garantire che abbiano un'infanzia felice e feconda anche per il loro futuro. Purtroppo anche loro furono danneggiati dalla Shoah, furono fatti oggetto di grandi sofferenze, furono dimenticati quelli che erano i loro diritti. Noi dobbiamo tutelare sempre le persone più deboli, perché le persone più deboli sono quelle che soffrono di più. Le persone più adulte o che non sono malate o che sono sane possono difendersi con maggiore facilità, ma fare dei danni o maltrattare o addirittura sopprimere quelli che non si possono difendere come i bambini è veramente il più grande crimine contro l'umanità. Preside, come hanno accolto l'iniziativa i bambini? I bambini sono felici, hanno iniziato un percorso già dall'inizio dell'anno scolastico legato all'Europa e quindi anche oggi parlando dell'Europa non si può fare a meno di parlare dei diritti dei bambini all'interno dell'Europa. E cosa fa la nostra comunità italiana? Io direi prima quella locale, poi quella nazionale e quella europea ed internazionale nei confronti dei bambini. Sicuramente è un percorso interessante. Io dico sempre, si tratta di bambini di scuola primaria? Come si fa a spiegare loro il senso dell'Olocausto, qualora un senso ci fosse? Guardi, io faccio riferimento a Brunner, essendo pedagogista, e dico sempre, tutto si può spiegare a tutti, diceva Brunner, basta sapere utilizzare il linguaggio esatto. Iniziativa anche al Plesso Santa Maria di Gesù. Un albero simbolo decorato con le storie di nome di tutti coloro i quali hanno permesso ad intere generazioni di essere al mondo, per non dimenticare. L'hanno allestito questa mattina gli alunni del terzo circolo didattico Plesso Santa Maria di Gesù a Gela. Attraverso l'iniziativa di oggi, la scuola, nell'ambito della giornata, della memoria, ha voluto dedicare un pensiero a coloro i quali, salvando delle vite, hanno salvato il mondo intero. L'Olocausto è una pagina vergognosa della nostra storia, è una macchia indelebile che non potrà mai essere cancellata e deve essere ricordata in quanto tale, perché non si può dimenticare. Però noi abbiamo scelto di dare ai nostri bambini un messaggio anche positivo, di trasmettere loro dei valori, una strada da seguire e degli esempi da imitare. E in particolare noi abbiamo voluto riscoprire i giusti, i cosiddetti giusti fra le nazioni, che sono coloro che hanno aiutato gli ebrei. Non dobbiamo parlare solo di quelli che li hanno sterminati, ma anche di coloro che li hanno aiutati mettendo a repentaglio la propria vita, ma con una abnegazione, con uno spirito di generosità che deve essere necessariamente ricordato. I nostri bambini hanno imparato, hanno fatto delle ricerche, hanno imparato anche a narrare a loro volta le storie di questi cosiddetti giusti che non sapevano di essere giusti, che l'hanno fatto solo per amore verso il prossimo. Avete allestito anche un plastico, un albero, un albero dei giusti, ma questo albero continua a crescere? Io penso di sì. L'albero è stato allestito dai nostri bambini sotto la guida dell'insegnante Graziella Insalaco. E i bambini ci credono. Ognuno di loro ha adottato uno di questi alberi che rappresenta un giusto e narra agli altri bambini la storia di questo giusto. Sì, sì, noi siamo convinti che sia in espansione questo giardino dei giusti. All'iniziativa di oggi rappresenta anche l'assessore comunale all'istruzione Giovanna Cassarà. Bisogna partire proprio dai ragazzini, bisogna foggiarli all'ispetto dell'altro, della sua diversità intesa come non un limite ma come una ricchezza. E quindi bisogna non soltanto commemorare a 70 anni di distanza dall'eccidio, dalla tragedia, dall'olocausto degli ebrei coloro che sono stati assassinati e trucidati per questi sentimenti negativi. Ma non dimenticare e fare veicolare questi messaggi positivi che sono quelli del rispetto a prescindere dalla diversità dell'altro. Fidapa e Chivanis insieme oggi per celebrare la giornata della memoria. Appuntamento all'istituto scolastico Luigi Sturzo, diretto da Grazio Di Bartolo. C'eravamo anche noi. 27 gennaio giornata della memoria. È sempre molto importante non perdere il nostro ancoraggio con la storia, capire da dove veniamo e come non ricommettere più gli errori fatti in passato. E per gli studenti è davvero molto importante recuperare la memoria storica. Sicuramente oggi è una giornata mondiale importante. Non a caso il nostro governo ha istituito la giornata della memoria il 20 luglio del 2000 appunto per far sì che certi fatti non accadano più. Quindi sensibilizzare i ragazzi, le scuole, l'istituzione a prendere coscienza perché questi avvenimenti veramente non accadono più. i campi di sterminio, quindi delle deportazioni. E quindi la giornata della Shoah è una giornata dedicata appunto a far sì che non si dimentichino, a far sì che le cose non si ripetano più, questi fatti gravi. Importante il ricordo, ma importante anche la riflessione affinché i crimini del genere non avvengano più. La pazia di Hitler ha portato all'uccisione di tante vite inermi e innocenti. Perché? Perché dovevamo essere tutti omologati e catalogati e quindi la diversità non poteva esistere. La diversità è una ricchezza. Che mondo piatto sarebbe se fossimo tutti uguali? Invece la diversità non solo arricchisce, ma porta al rispetto e al dialogo con l'altro. E questo è quello che oggi vogliamo dare ai nostri giovani. Quando la ragione dorme e quindi non pensa, genera mostri. Quando la ragione pensa, invece si rivolge all'umanità, all'educazione, alla formazione dell'uomo. Quindi è possibile, diciamo così, attraverso il pensiero, leggere correttamente la realtà. Quello che è successo è un male che non è redimibile. Perché rimarrà comunque un tumore della memoria. Un male comunque eterno. E' inspiegabile. Solo la follia di Hitler e dei 14 membri che nella conferenza di Van Zee il 20 gennaio 1942 pianificarono, diciamo così, lo sterminio dettagliato degli ebrei. Proprio per l'ideologia di Hitler che considerava gli ebrei coloro che volessero segretamente conquistare il mondo. E' importante capire come la memoria, che noi ormai consideriamo una parte del nostro smartphone, possa insieme al ricordo accompagnare e trasmetterci orrori che sono già accaduti ed orrori che invece accadono quotidianamente e che fanno parte della cronaca. Non si elimina il razzismo, continuano ad accadere nel mondo delle cose abbastanza brutte. Bisogna capire come queste cose vengono anche comunicate. Il mio ruolo oggi è quello di far capire che bisogna avere anche i giusti antivirus per intercettare alcuni valori che sembrano essere scomparsi anche dal lessico dei giornali e della televisione. In questo momento i fatti di Parigi dimostrano questo. C'è un ritorno all'antisemitismo, ma io direi anche forse all'antislamismo per alcuni versi. Comunque in ogni caso siamo sempre in presenza di orrori possibili, per cui è importante che i ragazzi ricordino e non dimentichino quello che è successo. Iniziativa anche a Caltanissetta, nell'aula bunker del Tribunale. Sentiamo. 70 anni fa i prigionieri di Auschwitz furono liberati dai soldati russi, i primi ad entrare nei campi di sterminio nazista e a scoprire gli orrori consumati al di là di quei cancelli, dove in meno di 5 anni morirono oltre un milione di persone. L'unica colpa di quei prigionieri, costretti ad ogni genere di sorpruso fino alla negazione stessa della dignità di essere umani, era quella di essere ebrei, ma anche anarchici, omosessuali, rom, malati mentali e criminali comuni. Numerosi gli appuntamenti in calentario previsti in città in ricordo delle vittime dell'olocausto in occasione del giorno della memoria. Per non dimenticare, la consulta provinciale degli studenti e l'Associazione Nazionale Magistrati hanno organizzato nell'aula bunker una rappresentazione teatrale tratta dal libro La banalità del male, ripercorrendo così le fasi del processo a Otto Adolf Eichmann, responsabile della sezione 4a B dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich e del trasferimento degli ebrei verso i campi di concentramento. Catturato dagli agenti israeliani in Argentina nel 1960, dove si era rifugiato, fu processato. Oltre 120 le sedute del processo che si concluse con una sentenza di condanna a morte eseguite il 31 maggio del 1962. Nella sua difesa, Eichmann tenne a precisare che in fondo si era occupato soltanto di trasporti. Un momento di riflessione ma anche di dibattito che ha visto la partecipazione di una rappresentanza degli alunni degli istituti superiori cittadini. È un evento straordinario per noi come associazione magistrati di Caltanissetta perché la straordinarietà è data dalla circostanza che quest'aula bunker viene riempita da giovani ragazzi, da studenti, da quelli che sono i futuri cittadini e che vengono a comprendere tutti noi insieme, perché noi assisteremo, quella che è la banalità del male, che è proprio il titolo di questa rappresentazione teatrale. In una giornata della memoria, qual è quella di oggi, dove per noi commemorare non è soltanto il ricordo, ma è la necessaria attualizzazione di quelli che sono gli eventi tragici della nostra storia, della nostra vita, comprese anche le nostre guerre e battaglie, diciamo, fra virgolette, contemporanee. La celebrazione della giornata della memoria, come giusto che sia, è molto importante, soprattutto all'interno delle scuole. Come consulta provinciale degli studenti abbiamo sentito il dovere di organizzare un'attività che potesse coinvolgerli meglio, che è magari un semplice incontro frontale, senza un coinvolgimento diretto degli studenti. Proseguono gli appuntamenti per la 37esima giornata nazionale della vita, promossa a Gela dalla Pastorale Familiare, dal Centro Aiuto alla Vita e dall'Associazione Gela Famiglia. Oggi, alle 17.30, nella parrocchia San Domenico Savio, è previsto il Rosario per la Vita e la riflessione sul messaggio dei Vescovi dal tema Solidali per la Vita. Alle 18, celebrazione eucaristica. Domenica, primo febbraio, nella parrocchia Sacro Cuore, alle 18.30, celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo Rosario Gisana. Saranno benedette le mamme in attesa. Dopo la prima graduatoria delle scuole gelesi, che prenderanno parte all'esposizione fieristica Expo 2015, arriva la conferma anche per l'Istituto Alberghiero. Ne abbiamo parlato con il dirigente scolastico. Preside, a Gela sta accadendo un fatto davvero storico. All'Expo di Milano, l'esposizione fieristica più importante della storia del nostro paese e dell'Italia, parteciperanno anche le scuole di Gela. In prima battuta, le scuole selezionate sono state tre. Adesso è arrivata la conferma che anche l'Istituto Alberghiero prenderà parte all'Expo 2015. Sì, sicuramente era impensabile che l'Istituto Alberghiero, si parla di dieta del Mediterraneo, non fosse presente all'Expo. Per cui c'è stato un disguido a livello dell'assessorato e proprio ieri ci hanno comunicato che l'Istituto è stato inserito a far parte di questa fiera. Dicevo, qualcosa di inaspettato, quando ho visto che non c'era il nostro istituto, mi ero meravigliato. Ci siamo attivati, si è visto che c'è stato un disguido tecnico, ma in realtà non si poteva pensare che non ci fosse presente l'Istituto Alberghiero. È fondamentale. Quando si parla di dieta del Mediterraneo, l'Istituto Alberghiero, diciamo che è quello più importante, indispensabile e fondamentale. Questo potrebbe anche rappresentare una svolta per lo stesso istituto in termini di qualità e di competenze acquisite, perché chiaramente ancora non sono ben precisi i ruoli e le attività che dovranno essere svolte all'interno del cluster Sicilia, però si sa che lo stand della regione Sicilia sarà uno dei più grandi e si aspettano milioni di visitatori. Quindi un grandissimo impatto, un'esperienza strepitosa anche per gli studenti. Certo, noi andremo con il personale addetto, con molti ragazzi, quindi con molte competenze, con delle strumentazioni, e sicuramente daremo un'immagine di quello che noi riusciamo a fare, sicuramente. Costituitosi appena dieci giorni fa con tredici associazioni e altrettanti attivisti, il libero comitato spontaneo Gelensis Populus oggi può contare sull'adesione di altri due enti no profit. Si tratta dell'associazione Ados Italia e l'associazione Sant'Ippolito. In una nota firmata dal portavoce Elio Cassarino, si legge che Gelensis Populus sta dimostrando di meritare, fin da subito, la fiducia di molti liberi cittadini, i denti locali, dalla partitocrazia e dal compromesso. Le battaglie, si legge ancora, si combattono sul campo con la gente e per la gente, non sui tavoli del potere, dove i notabili operano con l'unico scopo di lucrare sul disagio e sulle necessità dei cittadini. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Possibile presentare istanza per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico che vogliono usufruire dell'accesso all'agevolazione tarifaria per la fornitura del servizio idrico. hanno diritto all'agevolazione, nuclei familiari che hanno fino a tre figli a carico con una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 7.500 euro, nuclei familiari con un numero di figli a carico superiore a tre che hanno una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 20.000 euro. Gli utenti che alla data di accoglimento delle istanze risultano morosi potranno usufruire dell'agevolazione a condizione che provvedano a regolarizzare la propria posizione. Non hanno invece diritto all'agevolazione le utenze che già usufruiscono della tariffa agevolata pensionati. L'istanza, redatta su apposito modello, dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune entro e non oltre il prossimo 2 marzo. All'istanza dovranno essere allegate l'attestazione ISEEI lasciata dagli uffici abilitati, la fotocopia del documento di identità in corso di validità e la fotocopia del codice fiscale. I modelli per presentare istanza sono disponibili presso gli uffici del Segretariato Sociale del Comune in Viale Mediterranea al numero 27, il numero di telefono 0933 92 11 21. Sono disponibili altresì sul sito del Comune di Gela all'indirizzo www.comune.gela.cl.it. 100 artisti, 20 band musicali, 3 eventi e coinvolgimento di tutte le scuole e le società sportive di Gela. Sono questi gli ingredienti che caratterizzano la Maratona della Solidarietà scattata per consentire al 26enne Graziano Biundo di sottoporsi ad un delicato intervento cerebrale in un ospedale americano. La raccolta di fondi inizia questa sera alle 20 dal Teatro Comunale Eschilo con un contributo minimo di 5 euro il cui ricavato verrà interamente devoluto ai familiari dello sfortunato 27enne. Sarà possibile assistere ad uno spettacolo di musica dal Vive Cabaret con diverse jam session. Il secondo evento della Maratona è fissato per venerdì mattina con un concerto presso l'Olamagna del liceo scientifico Elio Vittorini di Piano Notaro. In questa circostanza l'accesso allo spettacolo che coinvolgerà tutte le scuole della città è fissato in un contributo minimo di 2 euro. Vediamo. Artisti uniti per Graziano. La macchina della solidarietà si è messa in moto per sostenere e aiutare questo ragazzo che a 26 anni non può, non deve morire soltanto perché mancano 150 mila euro. Una macchina che si è messa in moto abbastanza velocemente. Venerdì mattina ci siamo visti qui un gruppo di artisti gelesi e abbiamo subito creato un gruppo su Facebook inserendo tutte le band gelesi, tutti gli artisti che potessero in qualche modo contribuire a questa iniziativa. Abbiamo messo su questo spettacolo al Teatro Eschio, martedì alle ore 20, ma oltre a questo spettacolo ci sono pensate altre due giornate per poter raccogliere il più possibile e poter dare una mano diciamo concreta, maggiormente concreta appunto a questa iniziativa. Ci vedremo oltre al Teatro Eschio, ci vedremo giorno 30, venerdì 30, in un locale gelese che tramite poi social faremo girare alle ore 22. Subito dopo, sabato 31, alle ore 10.30 per in qualche modo far convogliare anche la potenza di quelli che possono essere gli studenti a livello economico. Abbiamo deciso quindi di fare una jam session sabato mattina per tutti gli studenti. Ogni studente uscirà un contributo minimo di 2 euro, quindi da tutti gli studi scolastici dovrebbe uscire una somma consistente e darà una grossa mano di aiuto alla famiglia. La malattia di un giovane di 26 anni è un affare che riguarda praticamente tutti, tutta la città, i paesi di Mitrofi, ma tutte le persone che hanno la sensibilità per capire che non è possibile fermare una vita soltanto perché mancano dei soldi. Assolutamente sì e in questo caso è proprio vero che l'arte unisce. Ci siamo trovati quasi per caso attorno a un tavolo a programmare questi eventi e tutto è venuto in maniera molto naturale. Ci siamo ispirati a una frase di una canzone che anche allora si parlava di artisti uniti, ricordate USA for Africa e We are the world, che dice non possiamo fingere quotidianamente che qualcun altro in qualche altro posto un giorno farà qualcosa, la dobbiamo fare noi. Abbiamo deciso di farlo, lo faremo e speriamo di raggiungere il massimo risultato possibile. Vi aspettiamo numerosi alle ore 20 al Teatro Comunale di Gela. Adesso la nostra consueta rubrica, in breve. La sezione gelese della FIDAPA presieduta da Angela Encardona promuove il secondo concorso letterario sul tema I giovani e il viaggio, prospettive, sogni e aspettative. Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole superiori che frequentano il terzo, il quarto e il quinto anno. Obiettivo è quello di riaffermare il perenne valore dello scambio culturale, della integrazione e della conoscenza dei popoli. Per informazioni 328-6250-260 oppure 339-3893-952. Sostenere i principi della dieta mediterranea con la partecipazione collettiva delle imprese agroalimentari del territorio siciliano. È l'obiettivo della prima fiera di degustazione dei prodotti tipici della dieta mediterranea che si terraggia all'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo il 7 e l'8 febbraio prossimi. L'iniziativa porta alla firma dello stesso istituto con il patrocino della Camera di Commercio di Caltanissetta del Comune di Gela con la collaborazione della Proloco. Con la manifestazione si intende procedere alla selezione di 20 aziende. Gli operatori economici selezionati avranno la possibilità di presentare e vendere propri prodotti e di effettuare un'operazione di marketing e comunicazione della propria attività nell'area espositiva assegnata di circa 30 metri quadri. La scheda di adesione è disponibile sul sito www.sturzo-gela.gov.it Secondo concorso Junior Chef in cucina con la mia insegnante per gli alunni delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado. Lo promuove l'Istituto Professionale per i Servizi dell'Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera Luigi Sturzo in collaborazione con la Proloco e la sponsorizzazione della ditta Caiman. Possono partecipare al concorso che si terrà dal 7 all'8 febbraio prossimi le scuole secondarie di primo grado di Gela, Butera e Niscemi. Il tema del concorso è torta per eventi. La partecipazione è gratuita. Per prendere visione del bando completo e ritirare il modello di adesione con la scheda ricetta bisogna rivolgersi alla segreteria della scuola di appartenenza. Ulteriori informazioni alla segreteria dell'alberghiero al numero di telefono 0933 820036. Appuntamento con il teatro domani alle 21 e giovedì 29 gennaio alle 18 all'antidoto di Macchitella a Gela. Previsto lo spettacolo di Antonello Costa. Il costo del biglietto è di 10 euro. Intanto è stato allestito il cartellone della stagione di cabaret sempre al cineteat l'antidoto. Si partirà il 19 febbraio prossimo alle 21 con Maglio Dovì. Previsti gli spettacoli di Gennaro Calabrese, Antonio Pandolfo e Sergio Vespertino. Il costo dell'abbonamento per quattro spettacoli è di 40 euro. L'ingresso per ogni singolo spettacolo invece è di 12 euro. Per informazioni 0933 82 27 07. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordo che servizi e notizie sono disponibili su internet all'indirizzo web www.tg10.it oppure sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Facebook. Vi ricordo infine che il nostro televideo è costantemente aggiornato. Grazie a tutti e arrivederci a domani. Grazie a tutti.